e bellissima a tutti ragazzi io sono fritz e oggi siamo qua in questo nuovo video di clash of clans ragazzi come potete aver visto dal video di games week queste settimane sono settimane molto piene per noi e non riusciamo a registrare un gran che però nella settimana si tornerà con la normale programmazione dei video io vi dico che questo sarà un base review che porta lunedì perché ho poco tempo per registrare la prossima settimana sono via tutta settimana perché vado a vivere fuori per una settimana quindi farò un base builder per il prossimo lunedì quindi fra lunedì si ricomincerà con i video proprio normali normali comunque oggi ci saranno tre base review più il mio che vi dico gli ultimi aggiornamenti che ho fatto nel mio villaggio e quindi possiamo partire col video allora ragazzi come potete ben vedere io nel mio villaggio ho finito gli archi x al 3 non vi ricorda l'ultimo video mi sa che li avevo messi in costruzioni ho fatto tutte le difese del 7 guardate proprio onertato come un cane poi ho messo la prima trivella di nero al 6 ho messo già due tesla al 7 domani metto la terza poi metterò questa qua che è la quarta ho messo il castello clump che lo reputo molto utile per il resto a truppe ho finito gli sgherri al 4 che dovevo portarli su ho messo i golema al 3 poi farò i domatori al 4 così mi porto perché entri a venere più importanti del dth8 al livello che dovrebbero essere adesso e poi successivamente porterò i golema al 4 se riesco detto questo che sono le modifiche portate al mio villaggio possiamo partire con il vero base review una persona che mi ha chiesto un base review è luca del mio clan lo skitali allora possiamo ben vedere che ha le difese completamente uppate mi credo che stia iniziando a fare le mura a real 10 a truppe è messo abbastanza bene deve portare su sgherri domatori e golem per il resto è messo molto bene un villaggio ben tenuto deve alzare le mura e poi potrà passare direttamente al municipio al 9 seconda persona che mi ha chiesto il base review è ambrose del clan lo skitali non che è mio gran amico in real life e il suo villaggio è messo così così c'è possiamo dire con le difese è messo abbastanza bene però come possiamo vedere ha le mura molto basse che non vanno bene per un municipio al 9 quindi gli consiglierei piuttosto di alzare le mura all'otto poi sta facendo le utile 2 tesla a 7 di fare gli archi x al 3 e di alzare le difese aeree come truppe non è messo per niente male adesso gli consiglierei di alzare i golem le streghe e infine i mastini per il resto è un ottimo villaggio la disposizione è perfetta le trappole sono sistemate molto bene ha le trivelle di nero a 5 che farmano già da sole un bel po' di nero per il resto le difese principali per il resto è un ottimo villaggio possiamo passare al prossimo prossimo villaggio di un mio amico però non è nel mio clan si chiama leo ionux anche detto leo è un municipio non è messo molto bene mi ricordo che qualche tempo fa qualche mese fa non era messo così bene anzi aveva ancora le mura molto basse però si è ripreso alla grande ha fatto tutte le mura si all'otto scusate ha iniziato il muro a 9 credo che le voglia finire alle difese completamente tuppate gli consiglio di alzare il re che è molto basso mentre la regina è già abbastanza sviluppata come truppe gli consiglio di fare le sgherie a 5 molto utili le streghe al 2 e di sbloccare i mastini e farli immediatamente al 2 perché la lava ionux è una tecnica molto molto potente diciamo comunque per il resto un ottimo villaggio a disposizione è molto buona posso immaginare che in questi posti qua ci siano le tesle poi qui ci saranno tutte le trappole è un villaggio anti giganti mi pare è un villaggio molto ben tenuto complimenti a leo per questo villaggio quindi ragazzi mi scuso se il video è venuto corto spero che però vi sia piaciuto comunque vi invito a supportarmi in qualsiasi modo volete se volete iscrivetevi al canale per altri video di questo genere come vi ripeto prossima settimana ci sarà un come si chiama base builder di un villaggio o farming o per war ditemelo voi qua sotto da th9 o th8 ditemelo voi da th9 in giù vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video ciao